La regione ratifichi senza perdere tempo il vincolo ambientale per la collina di Ricceci nel comune di Petriano e la richiesta avanzata al governatore Acquaroli e all'esecutivo di Palazzo Raffaello dalle consiglieri regionali di opposizione Michela Vitri del PD e Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle insieme a Gianluca Carrabs di Europa Verde, una decisione che metterebbe una pietra tombale sul progetto della discarica di Ricceci. Negli ultimi mesi ci sono state tre tappe importanti, io ed anche la consigliera Ruggeri in consiglio regionale abbiamo posto la richiesta al presidente Acquaroli e all'assessore Aguzzi, abbiamo chiesto di dichiarare al più presto il vincolo paesaggistico, la giunta regionale si è mossa solo dopo i nostri atti e in consiglio regionale il 26 marzo ci hanno dichiarato che l'avrebbero fatto, da lì la commissione tecnica che è stata istituita, della quale fanno parte anche provincia e sovrintendenza, si è riunita proprio quasi negli stessi giorni, insomma dopo aver presentato i nostri atti circa il 20 marzo più o meno. Poi c'è stato un sopralluogo della stessa commissione a Petriano nell'area di Ricceci il 16 aprile ma da lì in poi ad oggi per due mesi non si è più mosso nulla. Noi ci saremo aspettati il vincolo direttamente dopo il sopralluogo e invece siamo ancora in attesa da due mesi perché vogliamo sollecitare nuovamente la regione, perché l'8 agosto è in programma la conferenza dei servizi decisoria. La provincia ha già fatto tutto ciò che era di sua competenza, la provincia ha già mandato i documenti e ha già dichiarato per sette motivazioni diverse e la propria contrarietà. Ora la palla è passata alla regione, quindi l'ultima possibilità per bloccare il progetto ora dipende dal presidente Acquaroli, dall'assessore Aguzzi e dalla loro giunta. Abbiamo già attenzionato mesi fa la questione e purtroppo la regione con in primis l'assessore Aguzzi si è voltato dall'altra parte, a distanza di mesi siamo ancora qui senza aver avuto risposte sufficientemente chiare e l'urgenza è imminente per cui naturalmente torneremo. Noi del Movimento 5 Stelle, il prodotto democratico, farci sentire. Come avete saputo il 25 ci sarà appunto una manifestazione davanti alle regioni anche con i comitati proprio per stimolare la giunta a prendere posizione in merito. Carraps ha informato nel corso della conferenza stampa che a ricerci sono ripartiti carotaggi e lavori preliminari per realizzare la discarica, un motivo in più, ha aggiunto Carraps, per apporre il vincolo il prima possibile.